Buonasera qua con me, soffitta di camera mia, che non c'era nel mese natalizio, però mi è mancato nel mese natalizio. Che non c'era nel mese natalizio, che ero via, non riuscivo ad esserci, ma si torna, 2024 cerchiamo di esserci sempre. Possiamo fare la solita battuta, non ci vediamo da un anno, è dall'anno scorso che non ci vediamo, insomma le solite cose. È dall'anno scorso che non ci vediamo. Saluto un po' di gente. Sì, effettivamente sì, è un anno che non ci vediamo. No, non ci vediamo, ci siamo visti più per altre robe, anche su altri canali, Fisbee, eccetera, ma non con l'anteprima, perché uscì proprio in quel periodo tipico, no? Cioè di metà, metà, metà mese, ma io ero via, insomma c'è stato il weekend di mezzo, quindi per uscire, non uscire troppo tardi, mi ero avventurato da solo. Oggi siamo sul pezzo. Ci siamo dovuti separare. Eh sì, eh sì, oggi siamo sul pezzo. Ah, uscita proprio, o meglio, Cartacea era uscita, qualcuno l'aveva già fatta liccare abbastanza prepotentemente, ma ufficialmente usciva oggi, quindi ci siamo. Sì sì sì, esatto, il 15, salutiamo un po' di gente, vedo che c'è Linda Dixit, Ollotta Jovo, buonasera a tutti, tutti quelli che stanno avventurando in chat. Anteprima, anteprima 389, non staremo a leggere l'editoriale, ma si apre con Marco Lupoi, che ricorda che quest'anno saranno 30 anni di Panini Marvel Italia, quindi festeggeranno, immagino, a Lucca, quindi aspetteremo sicuramente la fine dell'anno. Ma comunque durante l'anno queste pubblicazioni, magari potrebbero esserci qualche sorpresa, insomma tenteranno di festeggiarla alla grande, spero, io sono possessore di un sacco di albi dell'epoca, perché da collezionista Marvel di... Eh beh, giustamente. Non credo faccia molto bene alla dieta, dice Ollotta Jovo, con 30 anni di Panini. Eh beh, effettivamente... Tra l'altro 30 anni di Marvel Italia Panini, ma se guardiamo solo Panini Panini, è altro che 30 anni, quindi una dieta ancora più piena. Beh, dipende, cioè se per Panini intendiamo fumetti Panini, la dieta la fai, perché non è che puoi mangiare fumetti. Bravo, soprattutto negli ultimi anni, visto l'aumento dei prezzi, però ecco, è un anniversario che mi tocca, perché io lo vidi nascere praticamente in diretta, si può dire, perché io ero bimbo, ma mi ricordo all'epoca Marvel Italia, che durò praticamente un anno o poco più, perché poi arrivò subito Panini come licenziataria, proprio totale, quindi Marvel ci provò a fare Marvel Italia e basta, ma era impossibile. Evidentemente i costi non erano... era difficile gestirla probabilmente, quindi hanno deciso subito di affidarsi a Panini Conks. E per farsi. Saluto Tony Doctor, saluto Fra Zero Zero. E poi, che poi non ci stiamo pensando, ma oltre a questo grandissime, c'è anche Anteprima 400. C'è anche Anteprima 400, 400 numeri. A dicembre. Magari allegheranno qualcosa di particolare. La copia anastatica di Anteprima numero 1. Di Anteprima. Sì, esatto. Non credo. Però sarebbe divertente. Buonasera comunque a tutti quanti. Allora, partiamo. Brevissimo, veloce, solo un accenno, perché ovviamente l'anteprima di questo mese parlerà bene o male delle uscite marzoline, quindi si arriva un po' alla primavera in anticipo, visto che siamo ancora in pieno inverno. Sì, festeggiamo il mio compleanno. Festeggiamo il compleanno in anticipo di buon soffitta. Tartarughe Ninja 65. Tartarughe Ninja, che intanto sta andando avanti anche in formato deluxe, è uscito il numero 4. Presto arriverà il numero 5. Quindi mi raccomando, continuate a comprare anche i volumoni deluxe se volete recuperare. Se non l'avete mai letta e volete recuperarla in formato molto valido. Per chi come me legge comunque anche il formato brossuratino, che è ovviamente molto più avanti, di qua conterrà fino al numero 122. Il numero 65 arriva a marzo. Piccola cosa da dire, in questi giorni era uscita la news che con il numero 150 in America la serie sarebbe finita. In contemporanea era uscita anche la notizia che comunque IDW aveva rinnovato i diritti con la Eastman, eccetera, per Tartarughe Ninja. E in realtà poi no. Poi in realtà l'attuale autrice delle Tartarughe Ninja ha detto, no ragazzi, quell'articolo non dice quella cosa, o comunque chi l'ha interpretato così non è quella l'interpretazione, ci saranno degli spin-off, eccetera, ma la serie non si ferma. Ora, io in realtà non ero così arrabbiato di un eventuale fine, perché ho detto, comunque hanno raccontato bene o male tutto quello che gli altri media delle Tartarughe avevano raccontato. Prima che diventasse ripetitivo, prima che, prima che, un bel finale secondo me se lo meritava. Allora, detto ciò, non credo che la serie andrà avanti ancora così tanto, magari a questo punto vogliono tirare almeno 200, vediamo. Come dicevi tu, fuori dalla diretta. Fuori onda, pre-onda. Esatto, in una chiacchiera, forse sarebbe stato quasi meglio chiudere e magari provare a ripartire da capo con un rilancio. Marvel, abbiamo un bel goblin super tecnologico, perché si parte subito con le bombe, si parte con Ultimate Spider-Man numero uno, scritto da Jonathan Hickman e disegnato dall'italianissimo Marco Checchetto. Io non so niente di questa serie, si diceva sì che dovesse avere un Parker sposato con figlia, moglie, eccetera, Parker con famiglia, quindi uno Spider-Man. Lo Spider-Man, forse quello che abbiamo lasciato dell'universo Ultimate, che ora è evoluto in qualche modo, anche se a Lucca dissero che comunque non era il vecchio universo Ultimate, era un nuovo universo Ultimate, quindi potevano esserci delle cose che magari cozzavano con le vecchie storie, non è una vera e propria prosecuzione, è come se l'universo fosse rinato. Così almeno aveva detto il buon Nicola Perunzi di conferenza, il buon Lupoi, Sì, insomma tutta la truppa Panini, è uscito in realtà in America il numero uno. Da pochissimo tra l'altro. Da pochissimo. Tra l'altro è anche disponibile in digitale, io però non l'ho letto perché come sapete preferisco leggere i volumi in italiano. Sì, poi tra l'altro è proprio a stretto giro perché è uscito in questi giorni, quindi con un paio di mesetti dovrebbe arrivare e senza fare spoiler c'è gente che si è commossa su queste 30 pagine. Ho sentito, ho sentito, c'è qualche riserva perché qualcuno ovviamente ha detto i primi numeri, lo sapete no? Sono magari appunto un tol 30 pagine, sono praticamente un prologo quasi a quello che succederà, quindi non puoi mai dire no? Bello davvero, brutto davvero. Panini le celebrerà a dovere con la classica Variant, doppio pvc 10 euro, quindi una bella variantona. C'è anche da dire che per questa cover nello specifico in America hanno fatto una scatafascio di Variant dove cambiava costantemente il costume. È vero, l'ho vista con il costume nero, con il costume del videogioco. Sì, sì, mi hanno fatto un sacco, con tantissimi costumi, il fatto che sia in doppio pvc mi viene da pensare che col pvc è proprio un attimo metterci il costume diverso e avere la copertina identica. Sì, quindi magari... Sembra un po' uno spreco, eh. Vediamo. Su questa sono curioso anch'io, visto che ne abbiamo parlato bene, il primo numero in Variant potrei prenderlo, anzi, il primo numero in Variant lo prendo, così, giusto per avere come oggettino da collezione. Non so se... Poi valuterò cosa fare, perché volevo avvicinarmi all'universo Ultimate, è chiaro che lo sto prendendo proprio dall'uscita più remota, però è un rilancio, quindi ha senso anche, dovrebbe aver senso partire anche da qua. Sì, sì, perché poi, come ho detto, è proprio un'altra cosa che non devi sapere quello che è successo prima. L'universo Ultimate era andato distrutto, non so ancora come si sia ricreato, credo che un po' in Ultimate Invasion lo spieghino, io ho i primi due numeri, il terzo deve ancora uscire, anzi, forse mi è arrivato proprio oggi, anzi, tre di quattro, quindi l'ultimo deve ancora uscire e io aspetto che i quattro numeri siano fuori per leggerlo. Sì, sì, completi per leggerlo, ha senso, assolutamente senso. Tra l'altro mi dicevano che Ikman qui è completamente irriconoscibile rispetto al suo solito, quindi è proprio una roba che è Ikman ma non è Ikman. Eh, perché sappiamo che Ikman crea gli universi paralleli, le mitologie, gli dèi, la morte, il fantasy, la rinascita, robe veramente che vanno anche un po' fuori ed è una delle cose che mi piace meno, nel senso che è una roba che mi fa soffrire a volte, è riconoscere poco magari i personaggi, perché mi sembra più che voglia raccontare una sua storia piuttosto che qualcosa. Qua se mi dici che mi dicono che ci sia molto cuore, molto spidey, però è l'unica cosa che ho saputo e mi hanno detto, quindi lì mi fermo, lì mi limito, infatti sono curioso. Curioso anch'io, vediamo, vediamo, comunque io lo sapete, non sono un fan sfegatato degli universi alternativi, delle varianti, del multiverso, l'universo Ultimate però comunque io me lo sono letto tutto, ce l'ho tutto qua in alto, sapete che è sopra la mia testa, tra virgolette, perché quello è lo scaffale adibito, quindi un pochino ritornare a leggere una testata con il nome Ultimate mi fa un po' piacere. Al suo senso. Parlando di rilancioni, qua in Terra 616, quindi Terra Classica, riparte anche Capitano America, anche qua non ho assolutamente idea di quello che parli, perché ovviamente non l'ho letto in originale, so che è molto presto, c'è Strazinski però ai testi, sapete che Strazinski è uno che lavora molto, va spesso a toccare il passato degli eroi, su Spider-Man aveva tirato in ballo la roba del Totem, Ezekiel, il ragno ti ha morso perché voleva, non è stata una casualità, sei stato, come si dice, era previsto che ti prodesse, sei prescelto, insomma gioca molto. Qua, a quanto pare, da come veniva anche raccontata, perché a Lucca ne avevano parlato di questo numero uno, si parla sempre del passato, nel senso che, come dice qua, vi leggo proprio la sinossina, passato, presente e futuro si scontrano, mentre l'uomo fuori dal tempo deve fare i conti con una minaccia determinata a portare il pianeta su un sentiero oscuro, perché si va a scavare appunto nel passato e si scopre che probabilmente c'è qualcosa che risale ai tempi della giovinezza di Cap che serpeggia da anni e che probabilmente nel presente torna a ripresentarsi, quindi si va sempre un po' al passato. Variant di Frank Miller con anche portacchiavino scudo, così, giusto per tirarci via altri 10 euro, per essere sicuri che a marzo le Variant... Per essere proprio sicuri che la gente la compri, io qui mi tengo fuori, se c'è un personaggio che non sopporto dell'universo... Eccoci, è Cap. Cioè, ci sono tanti personaggi che non mi piacciono, ma Cap... A me Cap piace, ma fumitisticamente negli ultimi anni un po' secondo me aveva perso. Il numero uno sicuramente lo prendo, perché va bene, parlerò anche per il canale, quindi anche tutti quelli che mi stanno ascoltando me ne sentiranno parlare. La Variant di Frank Miller, io avevo la Variant di Frank Miller di Spider-Man 1, se questo comincia a fare le Variant di tutti i personaggi, visto che a me il nuovo Frank Miller, lo dico proprio sinceramente, non piace per nulla a livello di disegni, ma la sua sana dose di zombie fan ce li ha, accumularle comunque per tenermele lì non si sa mai, potrei decidere anche di pigliare questa qua con lo scudo di Cap, vedremo. Comunque, ecco, se non avete mai letto Cap, visto che qua si parla anche del passato, mi immagino potrebbe essere un buon modo per iniziarlo. Tra l'altro, Strazinski scrive dialoghi molto alla telefilm, molto... cioè è bello da leggere, Strazinski. Ecco, non so come sarà in Spider-Man, come hai detto tu dovrebbe essere molto diverso, Ickman non fa delle storie leggere da leggere. Cioè, finito un albo di Ickman, devo veramente prendere il fiatone a volte. Non so come sarà Spider-Man, credo diverso, ma con gli Ickman, ragazzi, ci sono dei numeri che finiscono gli Ickman, dove ho letto tutti i dialoghi, le cose, i nomi, la mitologia, le pagine di enciclopedia che devi leggere, perché altrimenti non capisci alcuni riferimenti. Veramente, arrivo sudato a fine lettura, con Strazinski questa cosa di solito non succede. Non dovrebbe succedere. Vorreste stare tranquilli. Qua possiamo andare più rapidi, perché vabbè prosegue la serie classica di Spidey. C'è un piccolo avviso che dice Gang War sta arrivando, non inizia qua, anche se magari qualche piccolo... Così, no? Anticipo. Anticipo dovrebbe esserci. Cos'è Gang War? Gang War sarà questa grande saga che riguarda Spider-Man, e non so anche se andrà a toccare altre testate, però diciamo è una maxi saga di Spider-Man, che va a citare... Toccherà anche altre testate. Toccherà anche... Però tipo... Lo vediamo tipo nella pagina dopo. Ah, vabbè sì, io intendevo tipo Thor, Iron Man, cioè ovvio che in ambito Ragni, in ambito Ragni no, ovviamente sarebbe successo. Magari era un nin Amazing Spider-Man, invece no. Hai ragione, hai ragione. No, no, infatti... No, no, io parlavo proprio di una roba corale, no? Come è stato Devil's Reign, che era di Daredevil, ma poi ha toccato un po' tutta la Marvel. Qua dovrebbe essere un po' più piccola come roba, ma è una... Stando avanti prima è tutta ragnesca. Esatto, è un grande rimando alle storie del passato, perché due famose, in realtà, perché ce n'è stata più di una, diciamo forse anche più di due, ma due sono quelle più famose, le famose guerre fra bande, perché Spider-Man è sempre stato un supereroe molto terreno, molto urbano, e tra i periodi più famosi del Ragno c'era proprio la guerra fra bande, cioè all'epoca era sempre Kingpin, per qualche motivo è stato messo fuori uso, se n'è andato dalla città, ha cambiato vita, ovviamente per cinque minuti, hanno tentato di ucciderlo, o è apparentemente morto, insomma c'era tutta una serie di situazioni per cui Kingpin non era più presente o stava perdendo, magari c'era ma stava perdendo la morsa sulla città. E quindi tutti, il figlio di Kingpin, Don Fortunato, Silverman, Testa di Martello, tutti i vari boss, il gufo, tutti i vari boss mafiosi della città, volevano prendersi la fetta più grossa. E ovviamente in mezzo il punitore, in questo caso ci sarà pure Blade, tutta una serie di eroi molto metropolitani, dovevano evitare che comunque i poveri innocenti finissero vittima di queste battaglie tra gang vere e proprie, quindi sparatorie, bombe piazzate nei palazzi, eccetera eccetera. Quindi Spider-Man 4, il film dice fra, eh, forse andremo abbastanza da quelle parti, anche se poi lì ci sarà Kingpin, che diventerà sindaco apparentemente, e quindi c'enterà di immagino in realtà fermare la criminalità per governare lui la città ed evitare di far spopolare i supereroi. Quindi insomma, è una, un'ambientazione, quella della Gang War, che a me è sempre piaciuta, che fa molto Spider-Man e che ho voglia di rileggere anche in chiave moderna. Ne ho letto abbastanza bene per chi la sta leggendo in americano, visto che gli ultimi accadimenti della run di Zeb Wells, che non sono piaciuti molto, il personaggio di Rack Cap, che è questa specie di Spider-Man deforme gigante, come vedete, non è piaciuto a molti, a me assolutamente infatti non è piaciuto, però se torniamo a parlare di criminali, cose, magari potrebbe raddrizzarsi un pochino. Venom 24, sempre marzo, ricordiamo stiamo parlando sempre di marzo, per la serie i simbionti sono andati un po' dappertutto, abbiamo una vedova nera simbionte, è quello che ci viene proprio detto nella Sinossi, quindi una nuova Venom, quindi sarà un punto perfetto per nuovi lettori, perché di fatto se da qui inizia questo nuovo corso, che però mi vien da dire, non so quanto posso diventare longevo. No, infatti io credo che saranno quattro numeri di questa saga in quattro parti, cioè stato di grazia, tra l'altro come dice lo strillone, come dice sotto, Venom torna alla foliazione al prezzo regolari, quindi tornerà a quanto pare a proporre un solo numero al mese per tre euro, quindi lo paghi poco, ma lo leggi anche nel giro di un battito di ciglia, quindi i primi quattro numeri saranno con Vedova Nera che ha il simbionte addosso, vediamo come ci arriveremo, ma dopo queste quattro parti probabilmente tornerà, credo che Eddie Brock tornerà col simbionte, non so cosa succederà, ma non aspettatevi di leggere una serie infinita di avventure della Vedova Nera. Diciamo che magari è un punto di inizio ideale perché appunto c'è un nuovo status quo temporaneo, quindi è ottimo magari per saltarci a bordo. Un po' di curiosità ce l'ho, vediamo. Ci può stare. Incredibile Avengers, non stiamo lì neanche a parlarne, prosegue il crossover Avengers, X-Men, legato anche a Fall of X, quindi alla caduta dei mutanti, che ricordiamo concluderà quest'anno la grande epopea di Jonathan Hickman, che ribadiamolo, in realtà se n'è già scappato dai mutanti perché è andato a scrivere Spider-Man, ma chi per lui è andato avanti a raccontare le basi che ha messo, e infatti infatti partiamo con una serie di numeri tutti legati a Fall of X, quindi alla caduta dei mutanti, che io ho sempre pensato riporterà lo status quo alla scuola, cioè a tornare molto veramente back to basic, vedremo, e quindi li passiamo abbastanza velocemente perché è inutile consigliarveli da leggere, se non avete letto tutto quello che viene prima, aspettate, e gli X-Men potrete magari iniziare a leggerli più avanti, molta gente mi sta chiedendo ma adesso arriva X-Men 97 il cartone animato arriveranno nell'MCU posso cominciare a leggere io gli dico sempre in questo periodo è inutile, aspetta tanto tra un annetto o anche meno quando le cose si saranno sistemate secondo me un nuovo inizio arriverà quindi X-Men 30 con Fall of X adesso adesso ti ho proprio l'impressione di essere un siamo in Medias Res a poco senso in generale tra l'altro Fall of X è una saga che non mi sento neanche di dire iniziate da Fall of X perché per quanto sia una saga magari a parte chiaramente va a chiudere anni, anni comunque di storie di robe messe in scena va a pescare anche dal passato remoto cioè è proprio un bel casino incastrandosi anche con Iron Man perché ricordiamoci che Emma Frost e Iron Man si sposano si stanno sposando in questo periodo devo ancora leggere gli albi ma la serie si è incrociata con l'Iron Man in teoria perché sappiamo matrimonio che potrebbe nascondere qualcosa di più sotto quindi anche Iron Man va un po' a mischiarsi con la caduta del regno dei mutanti che per anni sì anni oramai perché parliamo dell'era addirittura pre-covid quando è iniziato Ickman mi pare fosse Lucca 2019 o 2018 addirittura quindi è già un po' di tempo sì sì facile facile Wolverine prosegue anche lui X-Force vedete c'è il timbro Fall of X dappertutto quindi non sono tutte storie obbligatorie se leggete che ne so X-Men 30 e il volumetto principale Fall of X già avete in mano il grosso tutte queste testate tipo Iron Man Immortal X-Man Wolverine X-Force ti fanno vedere l'evento diciamo più dall'occhio dei protagonisti delle varie testate magari aggiungendo anche delle informazioni inedite però generalmente se leggete la testata principale vi arrivano comunque abbastanza in maniera chiara questo appunto è Fall of X X-Men Fall of X volume 4 quindi quello più più corale che poi prosegue e finisce anche con X-Men Fall of X volume 5 dove c'è tra l'altro il mio amato ragnetto e quello sotto non sto lì a dirvi chi è diciamo che ha senso ha senso perché questa specie di Nightcrawler vestito come Spider-Man ci sia le origini dello stesso Nightcrawler sono state messe un po' in discussione negli ultimi mesi in America in cose che noi dobbiamo ancora leggere però diciamo che il volere di Claremont degli anni 80 mai mai esplicitato è stato in qualche modo portato reso reale parlando di mutanti anzi di nuovi mutanti Miss Marvel la nuova mutante ma non era morta certo ma se se si è scoperto che è una mutante con i protocolli di resurrezione dei mutanti possiamo farla resuscitare può tornare quindi ora abbiamo Miss Marvel che è mutante e non è più inumana e in più albo scritto da Iman Vellani cioè l'attrice di Miss Marvel la gente ovviamente si è un po' è un po' è rimasta un po' così da questo annuncio chiaramente l'hanno chiarito comunque Iman ha fatto il soggetto ha fatto diciamo ah che figata potrebbe succedere che lei fa questa roba poi questo poi questo ma poi a quattro mani con altri autori Marvel si è scritta la serie ovviamente quindi non abbiate troppa paura perché giustamente molti hanno detto cioè questa non ha mai scritto una sceneggiatura in vita sua la mettono su se state sapere poi è comunque Miss Marvel immagino sia non sia una serie cioè è una miniserie di quattro numeri mi immagino mi immagino una roba molto leggera esatto quindi non preoccupatevi non verrà distrutto il personaggio non credo sarà gravissimo anzi Iman comunque è super nerd conosce molto bene l'universo Marvel litiga con Kevin Feige perché dice non è possibile che nei film dite che è Terra 616 è Terra 19999 Terra 616 quella dei fumetti e Kevin Feige dice no stai calma insomma quindi è una che comunque sa il fatto suo legge molti fumetti molti fumetti Marvel ma tornerà quindi insomma se amate Miss Marvel la riavrete Davide dice a me domani arriva la seconda parte di Pax Cracoa e anche Inferno incartonato mi fermo lì perché è l'ultima cosa scritta da Ickman sugli X-Men allora non è male come finale Davide magari più avanti ti consiglierei di comunque prendere Fall of X quando magari la raccoglieranno perché chiaramente chiude poi tutto lo status quo di Ickman che Ickman aveva aperto ha comunque l'ok da parte dell'autore anche se non l'ha scritta lui quindi magari potresti comunque avere anche un volume che chiude questo status quo buonasera Nerd Like Me anche nel frattempo buonasera 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 qua andiamo veloci Daredevil 4 la serie sappiamo che è ripartita in Italia deve ancora farlo partirà tra pochissimo un numero americano ad albo quindi 3 euro si torna molto sul classico per adesso perché già in America pare che sia diventato prete Daredevil si è fatto prete anche lì non credo anche lì gente che si è strappata le vesti le cose ragazzi non credo resterà prete per sempre però vediamo cosa succederà Eden Fantastici 4 chi può dirlo chi può dirlo numero 13 che prosegue con i piani malvagi di destino vedete anche un tirannosauro metallico un ottimo tirannosauro bello mi piace sempre andando avanti non ho una batcaverna ci vorrebbe anche una moneta gigante di due facce esatto Avengers 7 prosegue la nuova serie degli X-Men tra l'altro Kang che da cattivo è diventato alleato degli X-Men degli Avengers perché è stato attaccato sconfitto dalla corte del crepuscolo di Myrdin questo nuovo nemico di cui ancora non so molto perché anche io devo leggere queste storie ma il numero 1 di oramai 3-4 mesi fa trovate sul mio canale l'analisi del primo numero è ancora tutto molto recuperabile quindi fate vostri i primi 5-6 numeri se volete rimanere in pari in questa nuova formazione degli Avengers prosegue Hulk in questa forma più brutale rispetto a Immortal parlando di Immortal prosegue l'Immortale Thor con il numero 4 che non so bene di cosa parli credo che neanche tu lo stia leggendo in originale no sto aspettando i volumi americani e quelli recuperi quelli esatto Marvel Integrale quindi le ristampe a prezzo budget e in formato piccolo di cicli importanti di Marvel c'è quello di Jason Aaron insomma l'abbiamo già ripetuto varie volte su Thor e c'è sempre dei Mattes e ormai siamo oddio in realtà manca ancora parecchio diciamo sì manca ancora siamo comunque siamo comunque abbastanza siamo nell'arco finale esatto però manca ancora un po' perché venga concluso manca ancora cos'è una oddio 4-5 numeri secondo me in integrale così a naso lo ribadiamo tutte le volte è quello che ha ispirato Thor Love and Thunder per sommi capi ovviamente nel senso che il tono è completamente diverso ma insomma è la serie che ha decisamente un po' più epico poi abbiamo l'integrale di De Matteis con il post saga del clone il figlio di Kraven quello che vedete lì è Alyosha Kravinov cioè uno dei figli di Kraven che poi è diventato buono quindi secondo me è molto più simile al Kraven che ci verrà proposto nel film che arriverà quest'anno e poi abbiamo l'integrale degli X-Men oramai questo è veramente una soppopera infinita con ancora storie però abbastanza mai ristampate in Italia perché gli omnibus che le ristamperanno ancora devono arrivare da noi quindi magari potrebbero interessarvi comunque sono gli X-Men classici più classici saluto AndySky392 ciao uomo ciao Soffitto soprattutto da Facebook che verrà qui per il lato Disney si comparirà al buon a quanto pare a quanto pare si lo aspettiamo lo aspettiamo io ogni tanto controllo che non ci sia la sotto no ma non credo infatti non c'è poi la morte del Venomverse uccidere tutti i Venom questa cosa succede ogni tanto anche con gli Hulk quando a un certo punto c'erano troppi Hulk in giro hanno fatto la saga in cui uno dei figli di Hulk andava in giro a uccidere i vari abominio Hulk rosso Hulk rossa Hulk verde Hulk blu cioè fare un po' di piazza pulita per tornare all'unico qua stiamo andando un po' da quelle parti probabilmente vogliono arrivare un po' a smettere di far pullulare di simbionti per poter ridare l'unicità a simbionti come Venom o a dare un po' una sgrossata però è molto bello che ci sia l'esordio di Kid Venom in tutto questo perché vuoi ucciderli tutti ma ne fai esordire uno nuovo è il seguito come dice qua di Extreme Venomverse l'agente Venom ha riunito tutti i V-Man per un solo scopo fermare Carnage una storia completa scritta dal co-creatore di Venom tra l'altro ambientata agli inizi della sua carriera l'esordio di Kid Venom in una storia scritta e disegnata dal mangaka Taigami quindi probabilmente ci sono anche delle incursioni delle storie brevi tra passato e cose alternative ok vediamo io non so se ti fare Carnage perché così almeno un po' di Venom io odio un po' quando ci sono troppi galli nel pollaio Black Panther nuova serie del 2023 che viene pubblicata direttamente in volume abbiamo Capitano America che qua invece ristampa la serie quella su Capitano America Falcon con il buon Falcon abbiamo Scarlet Witch quindi prosegue diciamo la serie su Wanda anche questa raccolta direttamente in volumi Doctor Strange con la serie di Doctor Strange appunto anche questa fatta solo in volumi Panini ormai molte testate le sta pubblicando solo in in brossurati o in cartonati che raccolgono più numeri più numeri a volta lo sta facendo lo sta facendo sia in Marvel che vedremo dopo anche in DC tra l'altro alternando come qua serie inedite vediamo Scarlet Witch e Doctor Strange o ristampando i vecchi brossurati cioè i cicli spillati Avengers Forever le colonne era questa serie alternativa che veniva pubblicata su Avengers prima che ripartisse con la nuova testata che vi ho mostrato sul canale e parlava anche qua di multiverso cioè di questa di come si è formata questa squadra multiversale di Avengers saltando di realtà in realtà veniva reclutato in ogni realtà un Avengers diverso ci raccontavano un po' la loro storia devo dire che era una serie gradevole per uno come me che non ama troppo il multiverso che non apprezza che comunque era sempre scritta da Aaron quindi comunque parte integrante di tutto il suo filone narrativo sugli Avengers quindi se state seguendo la serie degli Avengers questa è da in un qualche modo recuperare esatto e si arriva quasi alla fine di Daredevil si siamo quasi alla fine quasi alla fine ai numeri 6 su 10 credo di 15 forse forse c'è ancora un numero dopo questo la saga del pugno rosso si si non era l'ultimo credo penultimo probabilmente penultimo poi non so se c'era qualche storia extra ma secondo me il prossimo potrebbe essere l'ultimo il decimo comunque è il finale comunque l'atto finale quasi la parte finale del ciclo di Chips Darsky quindi comunque recuperate i vari Daredevil volume 1 2 3 con 5 6 6 8 9 se volete questo ciclo perché per me è uno dei migliori di sempre di Daredevil e sicuramente degli ultimi anni ha tirato fuori cose fighissime X-Men giorni di un futuro passato devastazione è semplicemente qua Mark Guggenheim fa questo volume fuori continuity tra virgolette ambientato nel mondo prima di giorni di un futuro passato ma prima inteso prima del futuro di giorni di un futuro passato cioè come ci siamo arrivati alle sentinelle che hanno ucciso tutti i mutanti ecco qua ci viene raccontata la cosa l'origine del futuro alternativo di giorni di un futuro passato esatto perché per chi comunque non lo sapesse se arrivava in questo futuro Kitty Pryde visitava questo futuro dove Wolverine era l'unico rimasto tantissimi eroi anche non mutanti tipo Spider-Man mi pare era stato ucciso insomma il mondo non era molto bello e qua ci viene raccontato là c'erano dei flashback o dei racconti qua ce li vogliono esplicitare ogni tanto si fa dopo un po' quando non si vuole raccontare storia mai narrata scritta da Gianmarc De Matteis grandissimo scrittore come dico sempre ambientata nel passato quando Magneto era il colui che dirigeva la scuola dei giovani dotati quindi insomma era il presidente e poi era un po' il professor Xavier e dirigeva lui gli X-Men tra l'altro con il costume con la M che io non so se ce l'ho qua rischio a farvelo vedere è anche il costume che ha nella serie animata che deve partire quella il seguito e i Lego hanno già spoilerato appunto il look di Magneto con questo omino che però tutti hanno odiato perché in effetti è abbastanza bruttarello cioè sembra una signora una nobile donna con i capelli lunghi una nobile donna si invece è Magneto infatti io nei miei piccoli dioramini uso il vecchio Magneto quello col casco quello a sinistra in questa in questa pagina divisa in due ma tra l'altro ha due occhi diversi cioè completamente diversi eh perché col casco sai lui ah beh sì col casco col casco si ingrandisce l'occhio destro eh sono le magie sono le magie le magie Marvel e comunque questa è una storia ambientata nel passato direi più destinata a chi magari conosce quel periodo cioè non è che potete trovarci qualcosa di così interessante già più interessante il processo di Magneto prima c'era Davide 88 che ringraziava tra l'altro del consiglio di prendere magari Fall of X quando uscirà questa non è di Ickman ma è comunque carina perché c'è un dopo il Gala Infernale che aveva portato una un assassino ehm l'assassino di Wanda di Wanda Maximoff quindi di Scarlet bisogna capire se è morta davvero dove è finita chi l'ha uccisa l'ha uccisa Magneto c'è questa storia tra virgolette in cui fanno un processo a Magneto andando un po' a citare il vecchio processo che io ho letto nei vari spillati e adesso viene raccolta in volume è anche questa molto legata però a Ickman quindi non ve la consiglio da leggere a parte la scatola chiusa quello che vi consiglio se volete l'omnibus aspettate ma se non non vi piacciono gli omnibus come il buon soffitta ecco finalmente verrà ristaffato questa può essere una via alternativa esatto uno dei migliori cicli di Hulk veramente di sempre perché era dai tempi di Peter Davids secondo me che qualcuno non lo scriveva così bene il ciclo di Ali Wing e di Joe Bennett e altri disegnatori di Immortal Hulk l'Immortale Hulk brevemente ne abbiamo già parlato qua nelle live di anteprima Bruce Banner insendendosi in colpa per una serie di problematiche che aveva causato cerca di uccidersi si fa proprio sparare in testa Bruce Banner muore ma una volta che è calato il sole è arrivata la notte il suo cadavere si trasforma in Hulk e il proiettile gli cade letteralmente dalla testa e Bruce Banner si risveglia anzi Hulk si risveglia scoprendo che non può morire cioè Banner può morire ma quando arriva la notte inevitabilmente Hulk tornerà a ripresentarsi perché Hulk non può più morire tra virgolette quindi l'Immortale Hulk il mistero poi verrà verrà spiegato in maniera anche abbastanza metafisica molto in maniera molto bizzarra perché Ali Wing è un autore molto che ricerca molto l'horror è una serie molto orrorifica con tanto sovrannaturale anche con dei primi episodi molto più separati dove semplicemente Banner va da punto A punto B dell'America come fuggitivo un po' come il vecchio telefilm di Hulk e ogni volta deve risolvere qualcosa magari succede un bordello qualche casino lui aiuta qualcuno del luogo salva il mondo ma poi deve scappare di nuovo poi piano piano questi episodi un po' più staccati hanno cominciato a unirsi cioè le trame hanno cominciato a diventare più complesse si è arrivati a una cinquantina di numeri secondo me se non sbaglio erano cinquanta esatti erano cinquanta esatti più un annual e forse uno specialino non lo so comunque saremo intorno ai cinque numeri vuol dire che siamo sì sì esatto 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 se non sbaglio la versione prima sì era sicuramente un pochettino più lunga perché gli archi narrativi erano più brevi ma qui verranno raccolti presumibilmente di due in due sono d'accordissimo potrebbero magari diventare sei ma dico proprio potrebbero se decidono di appunto storia a parte magari una breve eventuale inedite o magari storia con più foliazione l'ultimo numero è Overside ma ripeto non credo dovrebbero bastare no ma mi sembrava di averli visti già qualche tempo fa la controparte americana mi sembrava fossero cinque ok ok però ecco se volete uno dei migliori Hulk di sempre veramente una delle migliori saghe tra l'altro molto cioè è molto utile e comoda da leggere se anche non avete mai letto niente e che anche a livello di continuity non si lega praticamente a nulla intanto inizia e finisce anche quindi vi da anche un senso di conclusione che non per forza vi fa voglia di venire di andare avanti io infatti mi ero fermato con Hulk dopo questo ciclo fate le vostre alla fine sono una trentina di euro a volume cinque volumi non so ogni quanto escono non credo siano mensili il primo esce a marzo comunque ripeto direi di no tanto anche tanto se si rifanno come dicevo prima ad un formato americano avranno anche più o meno quella periodicità non so che periodicità avessero ma difficilmente sono mensili in generale secondo me siamo dalle parti dei tre mesi ogni tre mesi magari un po' come un po' come Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe secondo me poi fa parte di Marvel Deluxe serie comunque che alterna molte molte cose però ribadisco l'ultima volta Immortal Hulk consigliatissimo se amate il gigante di Giada o anche le storie horror in generale o magari volete un Hulk cioè magari non amate Hulk perché pensate sia solo botte di qua botte di là ecco questa serie potrebbe anche fare per voi per i motivi opposti nel frattempo ho ricercato e sono effettivamente cinque volumi perfetto ok confermo i cinque volumi ha senso Amazing Spider-Man Gang War le guerre di bande un volume che raccoglie le vecchie guerre di bande quindi abbiamo i vecchissimi Spider-Man 113 115 284 288 storie che alternano gli anni 70 gli anni 90 diciamo 80-90 con appunto Testa di Martello Otro Octopus Goblin Kingpin insomma tutte le cose che un po' vi ho descritto prima potrebbe essere carino in preparazione magari a Gang War non serve avere troppa conoscenza di continuity qua di Spider-Man anche qua 34 euro un bel volume anzi mi viene quasi voglia di prenderlo anche a me anche se ce le ho ovviamente tutte però è quella raccolta che dici quando voglio ritornare in quelle ambientazioni lì ho già ho il mio volume in quell'atmosfera ha senso parlando di storie classiche invece abbiamo i must have cioè i volumi che raccolgo un po' le storie come dice must have tra virgolette da avere per farvi la vostra libreria Marvel libreria di cose fondamentali dell'universo Marvel sì abbiamo Black Widow versione Marvel Knights tra l'altro che proponeva se non sbaglio Elena Belova esatto cioè la nuova vedova nera il suo debutto Daredevil Redenzione anche questa parliamo di 2005 quindi comunque è il periodo in cui Daredevil era molto scuro molto molto serio questa è una mini serie tra virgolette fuori da New York quindi nella piccola come dice qua comunità di Redemption Valley viene ritrovato questo cadavere bisogna capire che è il colpevole Matt Marduk indaga però è molto 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 indagine indagine classica parlando sempre di storie classiche abbiamo Marvel Giant Size Edition La Guerra dell'Infinito il seguito del Guanto dell'Infinito anche questo in formato gigante quindi se avevate preso l'altro questo con slipcase quindi con cofanetto forse è la mia preferita delle tre saghe dell'Infinito diciamo quelle classiche Guanto Guerra e Crociata Crociata ci sono i doppelganger c'è il Magus che è la versione malvagia di Warlock Thanos da cattivo diventa alleato è intrigante intrigante ci sono cose nuova serie Young Adult quindi diciamo fuori continuity ma più per ah ma Young Adult io mi sono mi sono cervellato per capire sta roba cioè questo qui era un arco narrativo crossover tra Spider-Man e Spider-Gwen di qualche anno fa e non capivo perché c'erano lo stesso riproponere cioè non lo capisco ancora in realtà no esatto però si è Marvel Young Adult il nuovo fumetto con il protagonista di Spider-Man across the Spider-Man non c'è più la roba del ispirato quello che ha ispirato da e poi in questo caso avrebbe avuto già più senso sì 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 perché tanto è un crossover dove ci sono entrambi Spider-Man e Spider-Gwen storie che abbiamo già letto tra l'altro da altre parti ma qua ci vengono vengono riunite diciamo in questo volumetto per chi è rimasto sotto al film e vuole a tutti i costi avere un assaggio dell'home in un formato però più piccolino un formato più piccolino e tra l'altro con il breve amore è fra loro due perché ora Miles ricordiamo sta con la nipote dell'avvoltoio quella con Spider-Gwen è stata una un flirt molto breve nei film lo porteranno avanti come il grande amore nei fumetti no sta già con un'altra quindi vi deludo però nel caso se volete quel breve momento in cui hanno limonato fatelo vostro fatelo vostro va bene omnibus anche in X-Force sì sì immaginavo anche in X-Force l'X-Force quella brutale cattiva violenta con i costumi bianco azzurrino e neri di qualche anno fa devo dire una delle formazioni di X-Force che ricordo con più piacere viene finalmente raccolta tutta in omnibus e fate la vostra se volete un po' di X-Men belli violenti belli cattivi che fanno missioni che gli altri non vogliono fare poi finisce Peter David quindi finalmente tutte le storie alcune mai ristampate o mai stampate addirittura di Peter David vengono concluse con il volume 12 e chiudiamo Marvel con il Masterworks il mitico Thor volume 13 che prosegue ovviamente le storie classiche del tonante che più classiche non si può è arrivato Fisbio cosa facciamo vogliamo fare Disney e poi lui se ne va va bene va bene Fisbiacci buonasera adesso devo sistemare un attimo no però non è vero il suo ingresso non ha rovinato troppo il modo in cui eravamo messi qua nelle finestre anticipiamo Disney allora DC la facciamo dopo così Fisbio che magari ricordiamo che Fisbio ha 62 anni quindi comunque inizia a sentire un po' l'età un passato burascoso in DC per questo non voglio parlare non vuole parlarne esatto una volta si è alzata anche una conferenza dicendo è troppo facile dire era un terreno fertile c'erano cose succedevano cose eccetera eccetera no scusate forse mi sto confondendo ma abbiamo qua Fisbio allora signor Fisbio lei ha letto l'anteprima ha visto sì l'ho letto tipo 10 minuti fa lei è quello che sul pullman ripassa la la certezza come diceva il buon soffitta che dopo di non uscirà anche a marzo quindi è una buona base è una solida base di partenza è vero è vero perché ricordiamo comunque che il buon direttore di Topolino molto onesto quando era stato ospite anche dal buon Fisbio che nel frattempo si è mezzo frizzato ecco è tornato l'aveva detto cioè io sono arrivato per tappare delle falle perché comunque non dico che Topolino rischiava di non uscire più ma chi lo sa però è vero insomma in questo mondo di questa editoria dove tutto chiude improvvisamente l'idea che comunque ogni mese ci venga detto che Topolino esce è una buona una buona cosa ma perché 5 perché in realtà viene contatto perché c'è l'ultimo di febbraio c'è il 28 febbraio che sta lì nel mezzo giustamente 28 febbraio ok ha senso ha senso ma attenzione perché in campo Disney ora lascerò parlare anche magari e partiamo subito con una fake news e si vola gli aeroplani e si vola e si vola finalmente gli aeroplani allora io che ho parlato tanto nel mio ambito Marvel allora vi lascio parlare un po' di più perché Soffitta e Fisbio io sono in realtà un grande disneyano ma loro sono sicuramente più addietro alle vere uscite tipo già qui c'è quest'area di fake news che adesso ci verrà ci verrà spiegata ovviamente tutte le opinioni di Soffitta e Fisbio non rappresentano le opinioni del mio canale ovviamente quindi qualsiasi avvocato ci sta fake news ci spieghi signor Soffitta o Fisbio se vuole è molto semplice perché hanno già annunciato che in realtà non escono in quelle date no no hanno già annunciato che non usciranno in quelle date che hanno messo su anteprima vabbè ma è come sparare sulla croce rossa la commentando anteprima ma scusate ma non l'avevano vabbè ho capito non l'avevano già annunciati tempo fa e poi ancora rimandati sì sì li avevano annunciati li avevano annunciati adesso li hanno riannunciati ma hanno già annunciato che in realtà l'idrovolante di Pippo uscirà il 6 marzo e quello di Topolino il 13 cioè slittano di una settimana tutta colpa del canale di Suez tutta colpa del canale di Suez evidentemente c'è più Taiwan nei gadget di Topolino di quel che pensavamo che non è né un canale youtube né un canale twitch esatto quindi mi sto chiedendo se arrivo in abbonamento in ritardo la colpa è sempre al canale di Suez qualsiasi cosa succeda anche se domani esci di casa e la chiave non entra nella porta è colpa del canale di Suez esatto canale di Suez quando piove magari non la vuoi fare no ricordiamolo diciamolo la statuetta di PK è slittata ancora è slittata anche quella non capisco se continuano a farla slittare finché non diventa sold out davvero è una scusa per fare è un mistero avete visto è andata a sold out esatto però l'ha rimandata di un anno quindi per forza nel frattempo la gente la comprerà comunque la statuetta di PK attualmente dal sito è stata posizionata a fine febbraio ok ok i soldi invece sono partiti subito nel secondo no no io i miei ce li ho ancora nel mio portafoglio secondo me è un preordine perché risulta come preordine eh sì risulta come preordine potete far arrivare in fumetteria me l'ha fatto me l'ha fatto sono fatta arrivare in fumetteria mi hanno chiesto solamente un acconto quindi ho dato ho dato 30 euro comunque se vuoi riscatto da pagare esatto è quello esatto topolino 3565 con un libro sulla magia il topolibro sulla magia ormai diciamo il topolibro sulla magia sapete che è una notte che poi tra l'altro doppio caos comunque perché è segnato che sul topolino 3565 qui è segnato che esce il 14 di febbraio ma ovviamente il 3565 no il 3565 del 20 marzo quindi tra l'altro dico di più fisbio prima erai live su twitch per parlare anche del nuovo topo fisbio poteva fare un ride al mio canale portare tutto il suo pubblico qua così almeno poteva dire venite da me non l'ha fatto perché ovviamente ancora non sa come muoversi non è pratico non è pratico va bene le spiegherò tutto però ecco io una notte mentre ascoltavo Bramini Badini fisbini eccetera che parlavano nei fumi della magia nei fumi della magia perché è stata fatta una live ultimamente sulle testate di Disney eccetera senza il buon marchese stavolta perché ovviamente ormai è passato dalla parte del nemico si può dire del nemico di Badini sicuramente al lato oscuro dell'editoria esatto e mentre ero lì detto ma sai che i topolibri io non li ho mai presi non li ho mai avuto neanche uno ho detto quasi quasi no ho detto visto che poi spesso li buttano fuori con questi cofanetti quasi quasi li recupero così no per farmi la mia libreria di topolibri non che mi interessino particolarmente però sono ben confezionati eccetera proprio mentre ho preso quella decisione hanno cominciato a arrivare i topolibri topolibri sui gatti topolibri sui giochi di magia topolibri aspettavamo te per dire ok se anche l'uomo c'è cascato iniziamo a sparare no no infatti e ho detto forse non è il caso forse è il fatto io volevo iniziare a recuperarli quindi niente ma il bello secondo me era che all'inizio il topolibro era una cosa che usciva per il salone del libro sì per il salone del libro sul libro sulla letteratura aveva il suo perché adesso è anche piacevole comprarlo in quell'occasione una versione nobile del topo con una selezione caruccia c'erano anche comunque degli interventi ricordando quello di Piero Angela con la sua prefazione molto carino curato e poi la cosa è degenerata c'è no più che c'è un topolibro diverso esatto più che altro è diventata una roba che vende perché evidentemente andava molto bene e quindi è diventato probabilmente un va fatto per forza è una certa qualcosa devi tirar fuori e quindi mi sono fermato anch'io il libro del piccolo prestigiatore per fare i trucchi sì secondo me è arrivato a questo per me fin da subito aveva senso solo se ti interessava l'argomento se l'argomento può interessare allora è quel oggettino bragoniamo Hemingway a dei gatti no sì sì infatti Hemingway l'ho preso quello dei gatti non lo prendo sono quasi diventati dei vatte la pesca deluxe eccetera eccetera ci sta fintamente deluxe vatte la pesca libro dicendo salutiamo anche Chris B. Circle nel frattempo buonasera comunque se vi piace la magia può aver senso grazie a me che ho fatto io il ride vocale ad Andy avvisando no ma infatti molti hanno detto dopo arriva Fisbio arriva Fisbio dopo arriva Fisbio attenzione ci hanno minacciato la trilogia di Topolino diciamo che è nata un po' questa usanza oramai di andare a beccare tutta una serie di lettori nostalgici che sono cresciuti con i libroni della Monda sì nostalgici in senso buono con la tutti i vecchi di me nati con cresciuti con i libroni di Mondadori che avevano queste copertine diciamolo in realtà bruttine ma non perché fosse cioè ma perché semplicemente era prendiamo dei pezzi di vignette così ce le schiaffiamo sopra e poi ci buttiamo sopra tipo c'è i pensieri però non con un Topolino sgranato come quello che vediamo in questo momento spero infatti che vediamo adesso cioè no ad esempio è work in progress dai anche la scritta è sgranata anche la scritta è sgranata no ma infatti è veramente una scritta se poi esce così ne parliamo sì ma sì uscirà così ma corretto è tutto è sgranato anche il giallo sullo sfondo dai sì sì è tutto sgranato è tutto sgranato è un plus perché sono storie che già tutti noi abbiamo in altri formati ce le presentano sgranate questa è l'idea del no la colpa non è di anteprima perché anche l'annuncio sui social la pagina di Topolino era sgranata l'immagine quindi proprio il grafico di Topolino il grafico che ha fatto questa immagine è di anteprima ma anche i colori del rosso è tutto blurrato ho preso il copy sotto l'immagine che ha mantenuto scritto copy due punti però secondo me sarà la copertina sarà questa la copertina sarà questa perché comunque no no che sia questa ha senso perché i pensieri di Paperone diciamolo non è che c'ha sta cover anzi era proprio una roba fatta un po' alla belle meglio in quegli anni che però adesso ha assunto quel sapore vintage e quindi vai a riproporre per questi volumi d'antan letti da Young Bertani comunque se se non conoscete la bando dei piombatori e il mistero di macchia nera può essere un modo per recuperarlo se non volete andare sull'omni di Barks sperando sempre non sappiamo quanto sia affidabile che la ristampa della storia sia la versione originale con i dialoghi per quanto ricolorata ok ok comunque è un modo per avvicinare nuovi lettori sì 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 curioso di vedere l'apparato relazionale che dicono corposo sostanzioso più che altro c'è sempre questa roba che io sono d'accordo avvicinare i lettori sì ma il nuovo lettore ti spende 26 euro così per dire ah vorrei provare Goffretson ci sta eh che vuoi fare delle robe però io punterei molto a dire quando ne parlavo con Bertani secondo me manca sempre la parte prima no e tu vuoi portare un volume del genere benvenga anche avendolo a questo prezzo benvenga ma devi anche incentivare no con quel lettore incuriosirlo dargli spiegargli il perché cioè non è che un ragazzo che senso ha vede sto volumone dicevo ah topolino con i calzoncini e le braghette rosse chissà che stai risolando e soprattutto un manetta che fuma manetta che fuma un altro che sembra manetta che fuma coi tubi esatto manetta manetta vestito da idraulico ah no non è manetta non è detto che le lettori del genere possono piacere nuove generazioni sono anche molto diverse in modo di certo certo la parte grafica i dialoghi c'è tante cose diverse ci sono tante cose diverse può essere anche un modo per i lettori che vogliono recuperare questo di Gofferson che non hanno potuto seguire altre testate come la library di Gofferson che sta ristampando tutto sì esatto mi sembra più veramente una roba del so conosco Gofferson per una serie di motivi non sono mai riuscito a farlo mio lo faccio se poi mi piacciono li piacciono posso recuperare vado a prendere altro anche perché ricordiamolo non tutti i lettori come noi tre ad esempio che siamo abbastanza inclusi in questa cosa non vogliono tutti per forza le omnie io per come sono fatto oramai i volumi di questo tipo mi interessano poco nel senso che se so che è un autore molto valido cerco di aspetto e cerco di capire se potrò avere prima o poi un omnia ma altri tipi di lettori che dicono chi se ne frega a me basta avere le avventure più famose o quelle che riconosciute come migliori e devo dire che qua comunque ce ne sono almeno due c'è anche Topolino nell'età della pietra che comunque non è che la butti via ma ovviamente c'è Macchia Nera c'è Giuseppe Tubi la banda dei combatori ci sta ci sta se uno vuole può recuperarsi da Gotherson Library che sta uscendo ancora in questo momento cioè a livello anche collezionistico è un bel vedere no no assolutamente sì sapendo ovviamente che è in bianco e nero la library magari uno vuole con i retini uno magari preferisce il colore allora lì dipende un po' però questa colorazione è nuova o sarà la colorazione di Topolino credo sia la stessa sarà quella là non è segna RGS no? sì 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 penso di sì eccoci a me non piaceva comunque troppo forti i colori no no a me invece non è sempre non era uno di quelli a cui non piace mi piacqua mi piacqua all'epoca quindi ma perché io soffro un po' il bianco e nero con Disney cioè a me paradossalmente è un minus però beh su quelle storie secondo me è tanta roba si sì cioè ha il suo perché però non lo so ho questa roba della Disney a colori che voglio a colori capite? è come quando mi colorano di Landog non mi piace qua al contrario anche se me lo colorano molto bene tipo Gigi Cavenago qua al contrario quando mi mi sbiancano mi sbiancano che non è vero perché originalmente erano in bianco e nero perché erano in bianco però diciamo a livello percettivo anche perché poi io e Goffredson l'ho comunque conosciuto con le ristampe già colorate anche qua di molti dei volumi ma parlando di attirare nuovi lettori Fisbio Grandi Maestri 3 ci propone Karl Barks perché ovviamente era ovvio che 3 Grandi Maestri tra l'altro da notare una cosa che questo volume qui avrà un elegante costa telata attenzione cosa che almeno il primo non mi sembrava ce l'avesse però allora già la cosa mi triggera ma al di là che io non ho comprato il primo certo che insomma era una fotocopia diciamo nobile dell'art sì dei grandi autori scarpa e scarpa ok Karl Barks ci sta benissimo nei Grandi Maestri però mi modifichi già la parte esteriore del volume se uno vuole fare una collana sì infatti a parte del primo versione poveri già il secondo mettiamo la telata così ci accapariamo nuovi gli acquigrenti sì è un po' un po' bizzarra questa cosa non so se cioè non credo sia un refuso perché come si dice non credo cioè come puoi fare un refuso scrivendo verrà impreziosito da ma comunque siamo consapevoli siamo abituati che anche in corsa tendono a modificare o i pieni dell'opera o proprio stando anche un po' al sentimento del lettore le critiche che possono dicere perché nessuno ha lodato il primo numero dei Grandi Maestri sì aspetta un secondo prendo una roba questo numero della humor collection soffitta l'ho definito il classico della ziche ma senza con una storia in più ecco quello lì questo esattamente questo con una storia in più cioè ci vogliamo bene al marchese però e vabbè fa quel che può però un po' meno palese no per quello io parlavo di raschiare per dire perché oramai cosa manca ma non possiamo sapere dei due quali si è stato partorito prima ma poi no esatto ma poi comunque vabbè ora battute a parte chiaramente la humor collection sta diventando un'omnia della ziche quasi cioè praticamente quindi senza topo colossal ma chi è che la sta seguendo io no io no perché io ho il primo volevo prendere il grande splash proprio perché comunque ho detto vabbè però non mi ha messo il topo colossal quindi non ho neanche recuperato ancora l'illusione per la stragrande dei seguaci della ziche senza aver avuto il topo colossal bocca ma pubblicatelo ma non dite niente oltre o c'era non si accorge nessuno ma non si accorge nessuno un colossal della ziche ci riesce il volume sotto banco noi non lo diciamo non lo diciamo non lo diciamo a nessuno ma start up era su topolino in mezzo ad altre storie era più comunque c'era il benestare del non pubblicizzatelo ma si può pubblicare e qui dovresti basta è uscito stampato fatevi una ragione ma infatti io a questo punto probabilmente sarebbe illegale però avrei davvero all'epoca avrei davvero detto ma ormai è andato in stampa come con Don Rosa faccicelo buttare fuori non eravamo più qua a commentare roba Disney probabilmente vabbè andiamo a io finora finora la humor l'avevo fatta tutta su questo ho dei dubbi ok e su Phantomius volume 2 hai dei dubbi? no si prende ho venduto la Definitive per prendere le serie imperdibili Gervasio ragazzi andrà avanti talmente tanto che anche le serie imperdibili verrà sostituito poi tu dovrai rivenderlo per un'ennesima ristampa vedranno il gold che dicono che va bene ma invece non va bene con tutte le storie stampate di Phantomius viva il gold e ci metteranno anche lo zero che non soffitta tanto brama di poter recuperare tanto bramo no ma esatto è giusto vabbè vabbè cioè qui qui era proprio il modo per scusatemi hai tre storie che fanno da antipasto a Phantomius mettimele nel primo numero no invece non ci sono arriveranno comunque arriveranno poi se tu lo chiedi soffitta faranno un volume a parte nuovo delle imperdibili comunque in ogni caso ogni i volumi comunque i volumi non saranno pari alla Definitive visto che ogni sto ogni volume al momento pari avrà cinque storie anziché le quattro della Definitive che è anche un meno allora è un meno io le imperdibili le ho fatte tutte per ora perché mi interessava poi quando è arrivato Phantomius tutta questa roba qua ho smesso devo dirlo il mio portafoglio un po' è contento che per un po' non dovrò più subarcarmi la spesa ma cioè dall'altra parte per chi comunque vuole nuovi numeri delle imperdibili meno male che fanno cinque storie sennò chissà quanto andavano avanti già non saranno non saranno pochi numeri beh già pubblicate sulle imperdibili questa ha un ciclo lunghissimo è enorme enorme sì 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 ma infatti si possono già più o meno così sul lunghi a contare otto volumi per solamente le storie già pubblicate sul topo quindi otto otto volumi vuol dire otto mesi perché è mensile no sedici mesi portacci vabbè ok è di mestrale attenzione Bertani disse anche che non era detto che sarebbero stati consecutivi ok 16 mesi consecutivi mi sembra un po' troppo cioè ti giochi tutto il pubblico che non vuole fantomist che non è poco però inserire dentro qualcosa per spezzare perché diciamo le nostre lamentele erano state eh che palle sono imperdibili per due anni c'è il monopolio di fantomius può essere sì un bene però potrebbe anche essere un male perché un po' uno si stufa sì sì è vero che poi secondo me può aver senso fare due tre volumi e poi alternare con qualcos'altro per poi ritornarci sono d'accordo è anche vero che se al momento eccedenti seppure erano cinque volumi ma vallati sì ma no in realtà hanno intervallato beh hanno intervallato le top stories perché non avevano le storie è vero è stato un bene comunque no no certo però in effetti hanno fatto quattro volumi di top stories tutti di fila poi hanno fatto tre volumi di racconti di torno al fuoco boscaiolo e forse è arrivato top stories e poi zio paperone no paper bridge le storie quasi vere e top stories ok ok sì 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 beh Andy Sky dice che dovevano aspettare la chiusura del ciclo sì ma poi così non vendi loro vogliono vendere continuamente Fantomius quindi volevo dire che la cosa importante è che non si sapeva quando si è parlato del primo volume che tutto diciamo il comparto relazionale la cura del volume è tutto di Gervasio sì sì è un'alba che si fa lui se la fa lui questa cosa è la sorta di autoproduzione finanziata da Disney certo sì dalla Panigia da Disney beh dovrebbe essere anche delle correzioni cose un pochettino così quindi è un'edizione riveduta e corretta chiaramente se avete la Definitive e non vi interessa avere un formato più prestigioso basta Definitive non è più Definitive allora no fa il nome nome in un cavolo eh però del resto la storia si chiama storie no le serie imperdibili uno potrebbe anche dire in realtà per me potete perdervele quindi purtroppo i nomi non sono mai veritieri ma nome nome ma cognomen non si sa ma passiamo anzi no la magia raccontata a Topoli non l'abbiamo parlato prima quindi via paper mitologia paper mitologia paper mitologia una cosa che mi ha triggerato fortissimo ma lascio parlare che cacchio è sta paper mitologia storie vecchie storie nuove quanto sono grandi gli albi quanti saranno miniserie soffitta ci dica che lei sa tutte queste risposte ci dica tutto quello che sa allora è una nuova collana apparentemente annunciata non qui su Anteprima ma sulle pagine social per ben cinque numeri quindi apparentemente sarà una collana non è neanche stata segnalata la periodicità quindi mensile non mensile non si sa comunque ma tra l'altro si parla di cinque numeri un po' alla paper sera perché dopo capiamo come va oppure mi sembrava sembravano abbastanza cinque numeri sembravano proprio cinque numeri per come l'han detta non è che cinque numeri poi vedremo se è anche probabile che sia c'è un motivo c'è un motivo di cui adesso vi parleremo a brevissimo volumi di realtà da 192 pagine a cinque ore e novanta quindi in realtà volumetto da edicola con una foliazione media ad un prezzo comunque buonino al suo interno ci saranno quattordici per 19 cinque ore e novanta la dimensione qual è quattordici per 19 credo che sia più o meno quella dei classici la solita dimensione devate la pesca da edicola ci saranno storie vecchie riguardanti la mitologia e comunque sia il mondo greco ma all'interno dei volumi ci saranno anche episodi di una nuova serie scritta da Luca Barbieri che riguarda la mitologia greca ok Fisbio si è triggerato tantissimo su Luca Barbieri io io devo dire che sono abbastanza eh preso al lamo sai cosa che mi prende al lamo il 5 ore e 90 e il fatto che siano cinque volumetti mi viene da prenderli e buttarli lì di fianco eh in realtà cioè questa cosa qui sembra carina vedremo anche come sarà in realtà la nuova serie visto che saranno o meglio è una nuova serie ma qua in realtà si parla di una sola inedita come se in realtà queste storie saranno pubblicate ipotesi contemporaneamente sia sul topo che qua ok quindi qua saranno inedite fin tanto che non saranno pubblicate sul topo punto di domanda perché non la vedo così troppo fuori rotta questa questa ipotesi penso avrebbe una storia inedita a puntate su una testata eterna nuova di di zecca certo che non penso abbia la stessa copertura mi dico copertura del topolino una sorta di metafora beh c'è da dire che c'è da dire che Paperino Paperinic cioè tutte queste robe qua hanno fior fior di storie inedite che vengono tutte le volte proposte tutti i mesi tra virgolette con due storie inedite sembra che sia concatenata sì sì certo quindi anche il perché di un blocco ben preciso di volumi di volumi prima cinque perché probabilmente si rivela dovrebbero essere dieci episodi della serie questa serie questa saga mitologica si sta in realtà se oltre alla alla storia mitologica ci fosse anche una paginetta di editoriale di approfondimento sul mito per chiudere un pochettino il cerchio la proposta diventa interessante è un poster con una donna nuda al centro anche tipo no questa si parla di mitologia greca papera quindi non ci sarebbe univerticali esatto linda linda dixit tra l'altro ci dice vedi da classicista io adoro tantissimo questa novità quindi lei magari questi cinque numeri li prenderà io ve lo dico li prendo ma anche un po' per il prezzo non lo so no io il primo numero per curiosità lo prendo poi se non soddisferà la curiosità gli altri rimangono in in edicola fondamentalmente però il primo numero diciamo che ci sono le basi per fare qualcosa di interessante frena e sconforta tantissimo la presenza di barbieri lo sceneggiatore che sarà presto ospite sul tuo canale fra l'altro per parlare con molto piacere penso ma è stato anche benino con WOM su fuori serie tranquillo che io gli giro questa clip almeno così siamo sicuri che viene Andy Skye chiede ma riescono a fare ben cinque volumi su questa tematica ma Andy ti dico sono pure pochi cioè se vai a guardare tutta la produzione Disney altro che cinque volumi con l'antica Grecia volendo con i classici Mondadori sai quanti ce ne sono sì ce ne sono almeno 4-5 volumi di folliazione anche più grande quindi è un fattibilissimo con storie della mitologia greca diciamo storie in costume però ci mettono un po' di pepe con questa inedita per attirare i classici collezionisti smagnosi i golzi come me soffitta esatto esatto comunque devo sottoscrivere con Fisbio che Barbieri in Disney finora ha fatto bene Wizard of Mickey sul fuoriserie e l'ultimo capitolo di K ok ok Fisbio non è d'accordo però ci sta ha fatto un messaggio in codice almanacco topolino gli vogliamo bene va avanti diventa tra l'altro già da questo trimestrale e diventa l'almanacco vero e proprio uno per stagione è arrivata in live con Bertani che ha comunicato effettivamente perché perché galleggia sulla linea di non va male quindi non facciamolo peggiorare comunque qui lo dico e qui non lo nego se rimedio i numeri prima mi butto anch'io dell'almanacco sull'almanacco bravo bravo ma non lo segui l'almanacco no si è detto questo che amarezza che amarezza guarda che difficile molti numeri sono esauriti credo visto no ma si trova se cerchi bene si trovano tra l'altro Fisbio cita i non citture così basse no infatti anche secondo me Fisbio cita i cesaroni che fra l'altro torneranno perché partono le riprese della nuova serie di cesaroni veramente sì credo a giugno le riprese no che stagione si è arrivata la 5 la 6 secondo me la 7 e già c'era stata questa è l'ottavo o la settima sarà no questa è la 6 ho visto prima la notizia che gira la settima la stagione dei cesaroni però mancano mancano due importanti la ex abbandonare live per andare a cercare notizie evitiamo infatti di parlare dei vari grandi classici di Zio Paperone e parliamo direttamente di questo di questo di questo classici con questo classici la Vigli Reporter che salterò salterò perché come dicevo io sto i classici ne ho presi più di quel che volevo ma tutti cioè prendo sempre quelli che sembrano quasi degli omnibus comunque delle piccole raccolte complete su un personaggio no? quindi che ne so il finale di ok quack detective donald praticamente c'era tutto quello che era stato pubblicato doppio scherzo c'era tutto tranne la prima storia che però c'era già in un altro classici quindi l'ho preso Paperone vabbè era il primo numero Vito aveva fatto questa storia è stato quello dei top stories che c'era il finale preso cioè prendo quella roba lì o i finali di saghe con storia inedita o vorrei dire giusto due paroline a riguardo di questa strategia che se ci fate caso la stessa collana è andata in parallelo con due stesse diciamo due filoni brah sì di volumi a portare proprio da proporre cioè quello che come dicevi tu raccolgono comunque delle storie selezionate ne è fatta una cernita censata portando delle storie particolari con un prologo di raccordo che aggiunge qualcosa di nuovo a quel personaggio o a quella saga o a quella storia che è uscita su più puntate nel passato altre invece che sono semplici ristampe di storie uscite di recente sì 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 legate da un sì sì molto più ma così è stato anche con il torneo delle cento porte vabbè sono state pubblicate tutte da un senso diverso forse sì 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 questo questo mi sa proprio più di stiamo cercando di capire cosa tira di più se magari quale dei due sì personalmente sono più per l'altra scuola questo è questo è letteralmente un super miti disney c'è un tempo si sarebbe chiamato mondadori paperi paperi fotografici e c'era questa questa roba di storie che questa roba qua però vabbè per chi apprezza ci sta no ha senso anche come diciamo versione parallela del topolino extra su paper sera news sì 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 proprio parallelissimo direi basta io mi tiro fuori da questo anch'io anch'io quando l'ho letta su un tempio non mi spiegavo il senso cioè per quello che comunque hanno voluto puntare sul topolino extra che che ripartirà diciamo così che sembrava essersi definitivamente fermato concluso arrivo subito voi chiacchierate rivediamo una cosa simile riproponere invece il prologo che è una storia inedita che potrebbe sempre lì attirare qualche qualche avventuriero esatto ma non so quanto basti ecco non credo cioè sinceramente questa serie qui la preferisco in sti volumetti qua piuttosto che sull'extra mi dà più senso però l'extra ha un comparto anche redazionale c'è un dietro le quinte sì però secondo me l'extra doveva puntare più su storie di un certo tipo non su serie potenzialmente infinite altra cosa importante nelle storie delle papersell abbiamo visto che ci sono state delle evoluzioni cioè il modo di raccontare le storie a un certo punto è cambiato si è andato un po' sul mistero sul sul testo sul che poi magari sono storie che non sono state capite e quindi si è tornati umanamente a parlare di percchetti e compagnia bella frivolenza si è dedicato di una storia di Klondike anche qua c'è un po' una miscellane ho visto nell'indice sì sì giustamente qual'era l'ultima cosa che volevi parlare paperino paperino 526 solo per segnalare che siccome quest'anno paperino diventa molto vecchio ci sarà anche su paperino una storia puntata che si traghetterà per i prossimi mesi fino a giugno ok ok beh inizia qui una storia puntata su paperino ok che poi porterà non viene detto neanche di chi sia ok sì no è vero dice c'è una storia celebrativa comincia questo mese una serie di storie inedite è una cosa dignitosa poi non la seguirò però mi auguro conoscendo come vanno le cose la storia a sé farà successo verrà ristampata per intero sempre nell'anno dei fisiciamenti sì infatti aspetta aspetta 95 anni non sono pochi una cifra tonda sì sì no ma anch'io un paperino non l'ho mai preso prenderlo per solamente un'inedita non mi non mi dà il quid però per chi può essere per chi potrebbe interessare lo segnaliamo ci sta ci sta allora io ora pensiamo a DC quindi Fisbio lei forse vuole salutarci era 90 anni non 95 certo 90 anni era più vecchio di Topolino c'era qualcosa che non quadrava 1934 2024 allora Fisbio lei cosa fa se ne va ci saluta a mano in cuore dici DC ecco DC bellissima DC è meno bombardosa l'abbiamo tenuta per ultima perché diciamo che non ha Ultimate Spider non ha magari queste grandi uscite ma qualcosa di abbastanza più qualcosa di sfizioso c'è c'è qui c'ho un paio di uscite che devo tenere sott'occhio ottimo ottimo dicevamo si finisce Knights of Terror quindi insomma Knights Terrors Knights Terrors i terrori del Cavaliere già avevamo parlato attenzione attenzione perché e invece a inizio una nuova serie regolare che uscirà direttamente di spillato perché si pensa che possa andare bene del resto abbiamo di nuovo Batman e Robin insieme ad opera di Joshua Williamson per i disegni dell'italianissimo Simone Di Meo si tra l'altro Batman e Robin che hanno ripreso a collaborare insieme dopo il recentissimo evento Batman vs Robin Lazarus Planet hanno fatto pace ha avuto modo finalmente di leggere anche l'evento quindi sono abbastanza in pari la serie si prospetta abbastanza dinamica molto giocosa molto adrenalinica in realtà è uscita da pochissimo anche in America quindi ancora non ho avuto modo e piacere di leggerla la leggerò sicuramente più avanti però Joshua Williamson in questo momento col fatto che è un po' l'architetto della continuity e delle storie principali della DC sicuramente qui vorrà continuare a raccontare qualcosa ed è interessante notare come in realtà lui da Infinity Frontier in avanti sta scrivendo Robin sta scrivendo Robin sì esatto prima nella testata di Robin adesso con questa testata quindi a lui piace scrivere Robin tra l'altro ci sarà la solita operazione blind pack ci sarà terribile terribile blind pack sì con 500 copie 50 copie e la famosa variant che ce n'è una praticamente una su una in tutto il mondo poi perché anche se questa roba la replichi altrove la farai in altre lingue quindi comunque diventa un albo che a suo modo è unico quindi per carità per un certo tipo di collezionismo può avere senso e sarà il motivo per il quale lo spillato costa 7 euro anziché 6 semplicemente perché è chiuso è chiuso devi pagare un po' la busta insomma un po' devi fare Batman Batman in realtà qui non è c'è il bollino che di solito lo mettono per i nuovi lettori ma in realtà serve solo a dirci che continua Gotham War continua l'evento ed è il motivo per il quale c'è sia Batman che Catwoman da notare che questo almeno non mi ricordo se l'anteprima scorsa c'era già un Batman di marzo qui è segnato solamente il secondo c'era c'era già secondo me era registrato da solo ma secondo me c'era già è possibile quindi comunque a marzo usciranno comunque i due numeri considerando che Batman Batman in Italia contiene sia la testata di Batman che di Detective Comics deve per forza andare avanti pubblicandoci per forza di cui necessariamente almeno due numeri al mese in questo caso specifico in più si è aggiunta anche Catwoman che sta facendo proprio un eventino crossover con Batman non era troppo lungo in realtà quindi siamo quasi già gli sgoccioli tra virgolette e confermo con Davide anche io o meglio confermo con Davide no perché ancora non ho letto la gestione di Ram V però penso di poter dire che la preferirai a Cif Zarsky ok ok io sono un po' fermo ho finito Failsafe c'è lui in un altro universo insomma devo capire un po' dove va però sì sono un po' a quel punto lì Batman Superman i migliori del mondo World's Finest prosegue questa bella serie di Mark Waid che ha ucciso Simon Stegg il personaggio che è salito alla ribalta soprattutto nei giochi Arkham paradossalmente quindi giustamente si vuole continuare su quell'onda mentre invece per quanto riguarda Joker l'uomo che ha smesso di ridere vi segnalo che in America è finita ok è proprio una miniserie di 12 quindi sappiamo che tra tre numeri chiude rispetto a questo altri tre numeri a giugno si chiude non si è proposta una nuova continuazione per ora no per ora no per ora no quindi si tratta proprio di una miniserie di 12 che ha trovato una sua almeno momentanea conclusione poi vedremo cosa vorranno fare Superman 7 il movimento Terra Blu tiene la super famiglia sotto scacco quindi un bel numero corale mi viene da dire sessantesimo numero fra l'altro diciamo nel computo totale dell'edizione italiana sì e parlando invece di cose che invece che continuare iniziano abbiamo Wonder Woman 1 che è il numero che ha fatto un po' scalpore per le tematiche per le cose eccetera insomma Tom King si è fatto parlare di sé in America sì finalmente lo vediamo anche noi anche noi a marzo sì 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 è questa quando usciranno i volumi americani mi ci butto anch'io ok sì anch'io perché comunque King King è quell'autore che preso per spillato per spillato no non sicuramente ti disorienta poi non riesci a stare troppo dietro al flusso in volume ha già completamente un altro gusto un altro sapore e sicuramente il primo numero ha fatto parlare di sé per tutta una serie di motivazioni di cose di cose successe nel volume che probabilmente nel corso dell'arco narrativo troveranno delle spiegazioni però sarà invece sì no perché sarà invece interessante ok no perché a me chiedono di Tom King io rispondo sempre che è bravo ma spesso fa questi archi talmente lunghi talmente anche prolissi che poi lo preferisco recuperare a pezzi cioè tipo una decina di numeri me li leggo tutti di fila ecco sì 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 no in realtà in parallelo a questa già dal secondo numero c'era proprio una miniserie parallela Wonder Woman ok non so se in Italia vorranno fare lo spillato che il primo il primo numero contiene solo Wonder Woman il secondo secondo me conterrà sia Wonder Woman che mi sembra che si titola Amazon War qualcosa del genere ok non mi ricordo bene il nome comunque eccetera ci sono tutte le Amazoni succedono cose e di fatto è un mini evento spin off di Wonder Woman quindi Amazon Attack dovrebbe essere ok è interessante interessante quindi dubito che lo vogliono proporre a parte come evento avrebbe poco senso questo davido tantissimo dice che vuole recuperare Batman e Superman per i disegni di Dan Mora che lui ama che gli ricorda un po' ma anche ma anche Wade ma anche Wade che ha fatto una bella e che poi tanto le ho lette da poco quindi le conosco benino sono veramente storie molto piene di dettagli piene di cose cioè ti viene difficile pensare che stai leggendo solo 20 pagine da quanta materiale c'è in scena ok ok tra l'altro per un'attestata che inizia una finisce il numero 800 originale della serie primo numero di The Flash ultimo numero diciamo dell'attuale Panini che chiaramente ripartirà immagino fra un po' sotto le gida di Dawn of DC però ci vuole tempo ok ok no in realtà sappiamo già che tanto l'ha annunciato a Lucca che ripartirà direttamente in volumi non lo pubblicheranno più in spillati certo certo era per dire che però la serie non finisce ovviamente non è un finale di serie totale chiaramente è un finale di spillati sì 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 è un finale di spillati la serie in realtà ripartirà dal numero uno quindi proprio un rilancio con nuovi proprio cambi di autori completamente quindi proprio un altro giro di vite fondamentalmente e come Consi Spurrier e Mike Diodato Junior ok ok per dare i nomi del prossimo ciclo qui invece abbiamo Jeremy Adams il capitolo 800 è molto celebrativo quindi in realtà ci saranno anche modo di riesplorare sia parte delle gestioni di Wade Williamson e Geoff Jones con storie che sicuramente andranno a ripercorrere quei momenti tra l'altro qua dentro c'è anche già il prologo appunto della prossima serie quindi un accenno lo vedremo prosegue GLA numero 20 attenzione non solo prosegue ma si conclude l'acclamata gestione di Mark Waid ora qui si parla solo di si conclude l'acclamata gestione di Mark Waid vediamo cosa vogliono fare perché non c'è scritto che è l'ultimo numero e se non ricordo male nell'omnibus di Mark Waid c'era anche Scalata per il Paradiso ok che era un altro volume sempre con la Justice League sempre di Mark Waid vediamo se vorranno inserircelo qui o meno siamo comunque in direttura d'arrivo anche perché questa serie della Justice League quella iniziata nel 97 dopo Morrison dopo Waid proseguiva con Giochelli ok e Panini ha già annunciato che non ha intenzione di portarlo sul best seller perché ha altri piani ok ok quindi magari quindi a prescindere ci siamo ora mai quindi siamo arrivati alla fine quindi diciamo che probabilmente se non è il 20 è il 21esimo volume e poi ci saluta ovviamente ricordiamolo per chi magari non ci segue sempre DC best seller di cui stiamo parlando adesso e del prossimo nel numero che parliamo sotto è la ristampa in formato economico come Marvel integrale la variante DC e parlando di serie c'è l'anterna verde di Geoff Jones che arriva al numero 18 con la notte più profonda quindi come dice lo strelone ci siamo è arrivato il momento di leggerla anche siamo siamo a metà del secondo omnibus di l'anterna verde storia della DC comunque è vero pur essendo una serie piuttosto recente la notte più profonda però ha segnato la storia dell'universo ha fatto sì sì ma anche proprio la gestione di Geoff Jones su l'anterna verde ha completamente rivalutato il personaggio la riporta in auge insomma ha fatto ha avuto un suo peso la legione dei supereroi di Mark Waid quindi torna Mark Waid DC Library è una ristampa di una vecchia serie di metà anni 2000 inizi anni 2000 sì assolutamente sì protagonisti tra Cosmic Boy Brainiac Five quindi comunque neanche comunque personaggi di prima battuta diciamo è un po' più per sottoni dell'universo DC questa per i nerd più nerd dell'universo DC Lanterna Verde al Jordan volume 1 di nuovo in azione attenzione questo che è il rilancio del New Dawn fondamentalmente per quanto riguarda Lanterna Verde avevamo lasciato Jeremy Adams a scrivere Flash e ce lo troviamo a scrivere Lanterna Verde in particolare proprio al Jordan quindi sembra potenzialmente sembra carina ed interessante vedremo come sembra dispiace vederlo direttamente pubblicato in volume perché vuol dire che in spillato pensano che non possa funzionare però ha anche a suo modo il suo senso è anche vero che e da qui lo vedremo in realtà potevamo vederlo anche con Marvel ma ci sono poco avvezza i prezzi dei cartonati Marvel ma presumo siano gli stessi molto identici 160 pagine a 21 euro è abbastanza un colpo al cuore eh sì e al portafogli è una roba che avrei dato a 200 pagine più o meno comunque almeno 180 190 vabbè Titans volume 1 proseguiamo fuori dall'ombra anche qua dopo gli eventi di crisi oscura sulle terre infinite diciamo che effettivamente capitanare un po' i supergruppi dell'universo DC ci saranno i titani in questo caso scritti da Tom Taylor quindi Tom Taylor che continua il suo viaggio con Nightwing e ci traghetta un po' nel suo supergruppo con una serie corale che potenzialmente è molto interessante perché è l'unica serie corale al momento di eroi eh sì perché la Justice League si lascia formalmente scomparsa durante quegli eventi veniva data in portafogli venivano in qualche modo scherniti tra l'altro dai cattivi sino ai piccolini che tentano di fare gli eroi ma insomma non più così tanto piccolini bisogna un po' più tanto piccolini sappiamo già che in realtà da qui a poco in America è uscito un evento che riguarda i titani che dovrebbe essere più o meno l'equivalente del secondo volume dei titani quindi probabilmente nel corso dell'anno vedremo anche l'evento su Beast Boy quindi insomma la DC per adesso viene governata mettiamola così cioè la squadra principale sono un po' i titan molto amati quindi lo capisco Brave and the Bold Batman il nome che tra l'altro avrà il film del nuovo DCU del 2025 esatto Tom King e qui qui abbiamo una nuova testata che è iniziatta adesso che raccoglie l'eredità di Batman Urban Legends quindi vuole essere una raccolta antologica di racconti con Batman protagonista se hai cercato un cast di autori di più primo piano rispetto a Batman Urban Legends in particolare si è chiesto a Tom King e Mick Gerard di riscrivere in un qualche modo il primo incontro scontro tra Batman e Joker questo primo volume questo primo volume che contiene la storia principale dei capitoli 1, 2, 5 e 9 della testata dei Brave and the Bold avrà questa rinarrazione intrigante semplice e semplice DC fa un po' queste cose rilancia queste cose la cosa mentre ancora ancora 21 euro per 160 18 per 112 diciamo che potrebbe essere in realtà una delle poche cose di marzo che mi interessa quindi ci sto facendo un pensiero considerando che sì è vero che è un The Brave and the Bold numero 1 ma i numeri successivi avranno altri autori altre storie quindi saranno quasi tutte storie autoconclusive quindi non penso che sentirei bisogno di leggere il seguito Batman Redwood sotto il cappuccio insomma vabbè un po' un classico un classico un classico che non ho e quindi lo recupererò in questo formato ok ok ho già proprio deciso non è che fondamentalmente questa è la storia che vede il ritorno di Jason Todd in vita dopo gli eventi di una morte in famiglia il suo ritorno un po' misterioso all'inizio poi sempre le cose diventano sempre più chiare il volume non contiene in realtà solamente i capitoli di Batman che vedevano il ritorno di di cappuccio rosso ma contiene anche una miniserie che raccontava un po' come era tornato la miniserie uscita dopo in realtà in un secondo momento sempre ad opera di Jude Winnick quindi sempre lui che ha orchestrato la cosa e quindi in realtà è un volume che non contiene solo cioè se avete preso in passato anche per Lion e Planeta sotto il cappuccio in realtà vi ritroverete in questo volume anche The Lost Days che è stato pubblicato sicuramente anche da Lion e da Planeta in volumi appositi qui Panini ha scelto di mettere tutto quanto assieme è uno dei personaggi più amati diciamo dell'ultima era DC e in realtà qui si avverte come il volume di alta foliazione ha un costo che diventa più accettabile per le tasche ma infatti è quello perché poi i volumazzi enormi di ristampe soprattutto quindi di serie che di cui non devi più pagare i diritti perché a volte c'è anche questo le nuove serie costano di più perché magari devi proporle ritradurle qua e le vecchie traduzioni è diversa a volte per quanto comunque con DC comunque devono ritradurle però è materiale che secondo me gliel'hanno dato tra virgolette da pubblicare ce l'avete eccoci qua questo non lo capisco questo non lo capisco questo per me si può buttare direttamente nella luna della carta c'è Andy Kubert ai disegni che per me è l'unica cosa che si salva però si Andy Kubert è Graham Morrison attenzione fra l'altro allora intendiamoci si hanno fatto la moto di che cosa è successo è successo che durante gli eventi di della gestione di Morrison di Batman Morrison ci ha postato un futuro dove Batman non c'era più e al suo posto c'era in questi capitoli di Batman 666 fondamentalmente c'era Damian Wayne una versione un pochettino più più cattivella di di Batman fondamentalmente la ministerie intitolata Damien Son of Batman scritta e disegnata da Andy Kubert vuole raccontarci un po' quel passaggio lì come Damien è diventato quel Batman però la miniserie è veramente brutta meglio tenere il mistero la ricordo veramente brutta quindi non penso che ricomprerò il volume per chiaramente le edizioni precedenti di questa miniserie avevano solo la miniserie qui hanno voluto inserirci anche Batman 666 e un capitolo tratto dal capitolo 700 dove magari c'era il Batman 666 fondamentalmente ma questo giustamente per mettiamola così per i lettori che ormai sono passati 9 anni da queste storie ai tempi la storia di Batman 666 era molto molto fresca chi seguiva Batman la conosceva quindi aveva senso pubblicare la mini a parte in realtà in questo momento storico essendo passato parecchio tempo ha senso anche darci chiamiamolo il prologo con Batman 666 per farci vedere come era nata la cosa però speravamo in un risultato migliore per me è un no Nightwing serie del 2016 fra l'altro quindi DC Special la ristampona proseguiamo con il numero 6 questo no no quanto sia un DC Special è la serie regolare è la serie regolare che era passata che era passata lì in volume sì sì la pubblicano quindi in realtà il proseguimento diciamo che abbiamo visto che adesso fa parte dei titani qui è il volume in parallelo a quello dei titani che per la gioia di tutti i titani sono cartonati e Nightwing è brossurato ovviamente chiaramente perché giustamente però hanno fatto questa scelta è anche vero che no è che vabbè probabilmente Nightwing vende un pochettino di meno quindi l'avevano già proposta finora è imbrossurato non è che dal improvvisamente lo cartonizzi hai ragione lo cartonizzi però può far specie sapere che di fatto Titans non è uno spin-off di Nightwing ma poco ci manca eh no appunto esatto però però insomma così e abbiamo invece la continua raccolta di Perez guardate che meraviglia il vestito di Nightwing degli anni 80 è meraviglioso meraviglioso possiamo saltare direttamente e andare verso Mondi in Guerra con Superman Mondi in Guerra esatto con un maxi evento di Superman degli anni 2000 proprio di inizio anni 2000 evento che non conosco quindi motivo per il quale sono più che contento di proseguire sulla collana DC eventi spero che non sia uno di quegli eventi in cui non succede niente mai fondamentalmente ci sono un sacco di Tain che non raccontano niente della storia principale anche perché ce lo porteremo avanti per almeno due volumi però è molto clara però c'è Jeff Loeb quindi credo siano delle gran belle scazzottate no no però ci sta anche perché finora è stata eventi DC per quanto è stata molto grandi crisi perfetto era quello che volevo da DC eventi e una spruzzatina di Batman giusto per condire il fatto che ci si sposti si parli anche di qualcun altro è carino idem perché sai che anch'io la sto facendo sono ancora un po' indietro perché devo sempre recuperarli ma però oddio per carità c'è stata anche la guerra degli dei con Wonder Woman cioè proprio il finale della gestione di Perez però che mi sono sentito molto sporco ad averla letta perché era proprio il finale della gestione di Perez e non ci ho capito niente giustamente giustamente Stormwatch perché arriverà insomma al cinema arriverà Autority il film di Autority arriverà nel 2026 però se non sbaglio sì che sarà il secondo film del DCU ma Autority comunque era una costola nasceva da Stormwatch di Warren Ellis quindi giustamente Pani dice iniziamo a mettere le basi per Autority facciamo vedere esatto riproponendo cosa c'era Stormwatch quindi serie anni 90 di questo bizzarro bizzarro gruppo di eroi le basi per Autority che poi sta a copertina veramente molto anni 90 molto anni 90 il personaggio dietro è impossibile che si esista eppure è lì in mezzo a noi parlando però di Autority eccola qua raccogliendo l'eredità appunto di Warren Ellis e Brian Eich secondo provocatorio di Autority che ripeto il primo volume l'abbiamo visto nella scorsa anteprima però ripeto prende le basi da Stormwatch quindi parallelamente vedrete un po' le origini e poi l'Autority in senso senso stretto diciamo sì tra l'altro gran parodia tra l'altro contiene tra l'altro contiene anche le tavole non censurate non si sa quando non so quando si sono state censurate però a quanto pare hanno deciso di restaurarle e di presentarci nel suo formato più originale yes tra l'altro ricordiamo è una sorta di parodia un po' della Justice League perché abbiamo un Batman e un Superman praticamente gay fra l'altro che sono quasi veramente una loro parodia più altri supereroi molto bizzarri c'è questa cosa del viaggiare tra i mondi con questa nave insomma è un decostruzionismo supereroistico comunque un po' alla Watchmen puro voglio vedere come sarà il cinema sono curioso di come lo tireranno fuori non ho capito bene quest'omnibus evidentemente Tom King è un autore che piace tantissimo Grayson che piace tantissimo e Grayson la super spia è fondamentale qui siamo in pieno New 52 inizio New 52 avanzato dopo l'evento Forever Evil purtroppo Nightwing è morto per diciamo farlo tornare diciamo in auge che in realtà non è morto per ovvi motivi se non ci sarebbe un'attestata lui interamente dedicata diciamo che era stato svelata la sua vera identità quindi era stato fatto dichiarare morto Batman lo insinua all'interno della Spiral questa agenzia spionistica per cercare di capire questa agenzia spionistica che cosa voglia davvero fare per poterla in un qualche modo controllare e sabotare dall'interno proprio spy story nuda e cruda alcuni capitoli molto visionari molto strani da parte di Tom King che voleva rielaborare un po' di cose cioè il nome Tom King comunque vende ma soprattutto il fatto che hanno stampato New 52 hanno fatto l'omnibus eccetera magari proseguono un po' anche su quella linea lì sì ma poi questa oddio era una che poi c'era anche Michele Janine quindi è proprio il team del Batman Rebirth che ritornano ed è forse la sua prima serie di Tom King che in realtà era coscritta con Tim Sealy e ai tempi ricordo che maledissi tantissimo Tom King perché pensavo non sapesse scrivere e invece tutto quello che non mi piaceva era l'opera di Tim Sealy e beh sì poi succede succede parlando perché sai scrivono assieme fai fatica a distinguerli subito uno non è un autore l'altro sì e dici e chi è quello che sta facendo le storie brutte quello che non è un autore e invece no parlando di grossi autori tra l'altro una delle bombe tra virgolette ovviamente Jack Kirby che dopo una serie di omnibus sul quarto mondo eccetera eccetera qua lo vediamo proprio alle prese in generale l'universo DC quindi le sue scorribande tra un'opera e l'altra è un po' un minestrone ovviamente sì questo è proprio un maffazzone infinito cioè che è vero che sono quasi 1500 pagine però è veramente un butta su di tutto ciò che o di buona parte di quello che Jack Kirby ha fatto in DC che non riguardi proprio esplicitamente le serie principali di quarto mondo e Camandi quindi vi deve proprio piacere Jack Kirby questo chiude DC e in generale in realtà il numero di anteprima tra l'altro non ho le pagine qua sott'occhio ma ve lo dico arriverà l'album di Dragon Ball delle figurine anche l'album dei Peanuts sempre di figurine io ho appena concluso Topolino e Spider-Man e ho già paura che ad aprile dovrò ricominciare un po' la caccia perché sono sono così cado facilmente negli album quelli celebrativi cioè quelli che ho che vanno a prendere tutti i decenni di una roba e non magari una roba nel particolare quindi mi fregano mi fregano sempre quelli celebrativi a senso vi ringraziamo per la chiacchierata per la partecipazione in chat per i nuovi arrivi per i vecchi arrivi che hanno commentato ringraziamo Fisbio ovviamente che ora non c'è che se n'è andato con la Disney e vi diamo appuntamento sicuramente il mese prossimo anche sul canale di Fisbio come abbiamo detto sempre col buon soffitta che potete trovare ovunque con il nome la soffitta di camera mia ovunque soprattutto su YouTube Instagram ma anche ovunque secondo me se cercate la soffitta anche ovunque quindi grazie signor soffitta la ringrazio grazie a te per l'invito e buona lettura a fumetti in quel che verrà saluto tutti e salutiamo tutti non stiamo neanche lì a fare un raidino grazie a tutti